Questo film è stato presentato da Schwepp's Drive, che ti ricorda il suo grande concorso con oltre 10.000 premi. Per Italia 1 Action, una prima visione tv. Finiscilo! Array lo raggiunge con un calcio terrificante! Non la voglio! Trovatelo! Inseguitelo! Se ti ho raggiunto io, possono farlo anche lui. Ma che voglio da noi? Benvenuti qui a Paradiso. Sarete le stelle di un grande spettacolo stasera. Vi affronterete da gladiatori per i miei ospi. Perché lo vuoi fare? In prima tv, domani sera alle 20.30 su Italia 1, Pugni d'Acciaio 2. No, non esiste sporco impossibile, perché oggi il biopresto a mano ha una nuova formula che elimina le macchie impossibili. Senza fatica e senza danneggiare i colori. Visto? Già pulito! Nuovo biopresto a mano. Più bianco, più colore, più presto. Givas Regal Il più regale dei whisky Sì, ma solo con jeans. No, sono finite. O vai in jeans, o vai in bianco. Profilattici jeans a tu, con Secret Box. Nulla, proprio nulla, sfugge a Acqua. Pellicole Acqua Stambe Acqua E dai più vita ai tuoi ricordi In High Definition Color Nulla, sfugge a Acqua Citroen ZX è stata eletta Auto Europa 92 dall'Unione Italiana Giornalisti dell'Auto Anche questa volta, Citroen ZX ha superato tutti. Citroen ZX La qualità, la senti. Ogni giorno Prenditi cura della tua pelle Con bagno e doccia schiuma Neutro Robert Ogni giorno Perché sanno come proteggerla e idratarla Affidati a Neutro Robert Ogni giorno Bagno e doccia schiuma Neutro Robert Più che neutro Neutro Robert È unica Fresca Vivace Come un sentimento sincero La riconosci subito È San Pellegrino L'acqua che ti vuole bene È incredibile quanti prodotti di bellezza usi una donna Plitex 24 ore Scoprite l'Atlante d'oro In 14 inserti e 5 fascicoli Il mondo dorato delle grandi dinastie La ricchezza di tutte le nazioni L'oro delle monete Con il primo inserto Con il primo inserto Un fascicolo e il raccoglitore Dal lunedì Atlante d'oro del sole 24 ore Un regalo che andrà a ruba Svelto Pack Svelto Pack Svelto Pack Svelto Pack